I dati raccontano una cosa molto triste secondo me. Uno, sono stati spesi tutti i soldi della fondazione, 1.200.000 euro, sono stati spesi per un'unica mostra. Questo non va bene perché le altre mostre, tutto il tessuto sociale è stato messo in difficoltà per mancanza di contributi. Poi è verissimo che sono stati persi mezzo milione di euro. Io non sono contro assolutamente le grandi mostre, anzi quando sarò io sindaco ne faremo di più, fate meglio, badando molto ai soldi pubblici perché è essenziale questo, coinvolgendo chi propone le mostre nell'eventuale anche perdita. Non si può con un'unica mostra per far bello a qualche assessore far sì che ce ne sia una sola che drena tutte le risorse.